Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo prossimo video Ok, sì, lo so, oggi ho fatto uscire tre video 1.14, 1.18 e 1 adesso, che sono quasi le 21 ma li vediamo a parlare di due smartphone nuovi A70 e A80 di Samsung Questi smartphone, il primo, l'80, ha 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna ma soprattutto una cosa fighissima, ossia la fotocamera che ruota Sì, sia la fotocamera anteriore e la posteriore ruotano e è una figata, funziona molto molto bene farà dei video stabilizzati al massimo e è una bomba Poi, ha un processore Snapdragon, un Exynos 730 una batteria da 3.800 mAh ma senza jack delle cuffie ha ovviamente molto programma, perché questa roba qui ormai è standard Poi, A70 o A80, insomma i numeri sono relativi A70 diciamo batteria da 4.500 mAh, da 6 a 8 GB di memoria 128 GB di memoria interna 3 fotocamera da 32, da 8, da 5, da 8 per il... la profondità, no, la 5 per la profondità, la 8, insomma le 3 fotocamera seguono tutte Poi, 4.500 mAh di batteria, non mi ricordo se l'ho già detto e uno schermo da 6.8 pollici Sì, 6.8 pollici La 80 è più grande della 70 La 80 non ha il jack delle cuffie No, la 70... Sì, la 80 non ha il jack delle cuffie per questione di innovazione insomma, poi costa di più di solito le cose costano di più Hanno meno No, beh, hanno meno perché è innovazione L'innovazione si paga di più Infatti, l'Apple costa di più E niente, queste sono le novità di questi Samsung A, nuovi Noi, come solito, ci vediamo il prossimo video domani